bella ragazzi marco drum games tutorial piccolo tutorial per vedere lo stato di avanzamento dei vostri trofei adesso siamo su guardiani della galassia andate giù di uno ok eccolo qui andate vedete l'iconcina ok avanzamento dei trofei quello dove c'è scritto 92 per cento x e vi fa vedere tutti i vostri trofei ok quelli fatti e soprattutto quello che interessa a noi quelli da fare schiacciate x e vedete adesso non so se si riesce a vedere bene perché il bianco veramente spacca c'è scritto avvia tracciamento schiacciate la x il trofeo metti in riga mettili in riga stendili tutti quando voi uscite eccomi che vi compare sul fianco quando voi andate a giocare ok vi trovate i l'elenco trofei a fianco e ogni volta che voi ne fate uno adesso vediamo se riesco a farne uno tanto per farvi vedere boom shakalaka e aumenta di fianco i nemici storditi che è il trofeo che devo fare va bene ragazzi da marcodrams games è tutto il tracciamento per i trofei un tutorial fresco fresco per voi mi potete seguire il canale e youtube facebook twitter instagram tiktok twitch disco ma soprattutto twitch e youtube che sono quelli dove io stream o e faccio i video e mi raccomando la campanellina mi piace un commento e portate gente sul canale ciao amici miei e alla prossima marcodrams tutorial sul tracciamento dei trofei playstation ciao raga mitici